Il cardinale Iosif Slipi e la sua Ucraina. L'eroico Presule fu testimone dello Lodomor e passò 18 anni in carcere o ai lavori forzati nei Gulag e in Siberia. Al Concilio Vaticano II testimoniò il sacrificio dei cattolici in Ucraina. Di Roberto De Mattei. Vi sono uomini che incarnano le virtù e i valori più profondi di un popolo. Tale fu il cardinale Iosif Slipi, arcivescovo maggiore di Halic e di Leopoli degli Ucraini, di cui ricorre il centotrentesimo anniversario della nascita, proprio mentre la sua terra natale conosce una nuova immane tragedia. Nato il 17 febbraio 1892 a Zadrist, nell'Ucraina occidentale, a 19 anni Iosif Slipi entrò nel seminario di Leopoli, dove fu ordinato sacerdote il 30 settembre 1917 e poi inviato a Roma per completare i suoi studi presso l'Istituto Orientale e l'Università Gregoriana. Nel 1925 venne nominato rettore del seminario di Leopoli e nel 1929 dell'Accademia Teologica della stessa città. L'Ucraina intanto era caduta sotto il gioco sovietico e Stalin, tra il 1932 e il 1933, requisì tutta la produzione agricola per imporre la collettivizzazione forzata del paese attraverso la carestia, conosciuta come Olodomor. Mentre si avvicinava la guerra, il metropolita greco-cattolico dell'Ucraina Andrei Septicchi, che lo aveva avviato al sacerdozio, lo richiese a Pio XII come suo coadiutore con diritto di successione. Così, nel 1939, Monsignor Iosif Slipi venne nominato esarca dell'Ucraina orientale e, alla morte del metropolita Septicchi, il primo novembre 1944, divenne capo e padre della Chiesa Cattolica Ucraina. Era un momento terribile per il suo paese, stretto tra la morsa dei nazisti e dei comunisti. L'11 aprile 1945, il metropolita Slipi venne arrestato dai sovietici e condannato a otto anni di lavori forzati nei Gulag, mentre veniva inscenato un sinodo illegale che proclamava la riunificazione della Chiesa Cattolica Ucraina con il patriarcato ortodosso di Mosca, dominato dal regime sovietico. Le chiese dei greco-cattolici, circa 3.000, vennero date agli ortodossi e quasi tutti i vescovi e i sacerdoti furono uccisi o incarcerati. Nel 1953, l'arcivescovo Slipi subì una seconda condanna a cinque anni di Siberia e nel 1958 una terza a quattro anni di lavori forzati. Nel 1962, a 70 anni, pattì la quarta condanna, consistente nella deportazione a vita nel durissimo campo di Mordovia. In tutto, l'eroico presule passò 18 anni nelle carceri e nei Gulag. Il padre gesuita Pietro Leoni, sopravvissuto ai lager sovietici, descrivendo gli orrori del campo di transito di Kivov, racconta che un giorno alcuni detenuti furono introdotti nella sua cella. Sull'imbrunire mi sentì chiamare da una voce sconosciuta. Un uomo anziano, con la barba, stava in piedi davanti al mio posto. Mi porse la mano presentandosi. Giuseppe Slipi. Fu allo stesso tempo una gioia e un dolore sapermi insieme al mio metropolita. Pio XII intervenne ripetutamente in favore degli ucraini e del loro metropolita, incoraggiandoli a resistere alle persecuzioni, soprattutto con l'enciclica Orientales Omnes Ecclesias, del 23 dicembre 1945. Tuttavia, nel 1958, dopo la morte di Pio XII, i rapporti tra la Russia e il Vaticano iniziarono a mutare. Quando Giovanni XXIII annunciò il concilio Vaticano II, volle che ad esso partecipassero i rappresentanti del patriarcato di Mosca. Le autorità del Cremlino imposero come condizione il silenzio del concilio sul comunismo. Un accordo segreto fu siglato nell'agosto del 1962 nella cittadina francese di Metz tra il cardinale Tisserand, rappresentante del Vaticano, e il vescovo ortodosso Nikodim, da parte russa. La grande assemblea, convocata per discutere sui problemi del proprio tempo, avrebbe taciuto sulla maggiore catastrofe politica del Novecento. In quegli anni, i gulag comunisti pullulavano di prigionieri per motivi religiosi, specialmente della Chiesa Cattolica Ucraina. Sarebbe stato uno scandalo se nell'aula del concilio fossero stati assenti i vescovi vittime della persecuzione e presenti invece gli esponenti del patriarcato di Mosca, che appoggiavano i carnefici. Fu svolta dunque una trattativa tra la Santa Sede e il per permettere al metropolita Slipi di partecipare al concilio. Il capo della Chiesa Ucraina non voleva abbandonare il suo paese, ma ubbidì al Papa e prima di lasciare Mosca consacrò clandestinamente vescovo il sacerdote redentorista ucraino Vasil Velikovsky. Giunse a Roma il 9 febbraio 1963, ma non tacque. L'11 ottobre 1963 Slipi intervenne in concilio parlando della testimonianza di sangue della Chiesa Ucraina e proponendo di elevare la sede di Kiev Halic al rango patriarcale. Egli ricorda di aver rivolto questa richiesta numerose volte a Paolo VI, ma di avere sempre ricevuto un diniego per ragioni politiche. Il riconoscimento del patriarcato ucraino avrebbe infatti ostacolato l'ostpolitik e il dialogo ecumenico con la Chiesa Ortodossa di Mosca. Però il 25 gennaio 1965 fu creato cardinale da Papa Paolo VI, che elevò la Chiesa greco-cattolica ucraina al rango di arcivescovato maggiore di Leopoli degli Ucraini. Fra il 1968 e il 1976, malgrado l'età avanzata, il cardinale Slipi intraprese lunghi e faticosi viaggi presso le comunità della diaspora ucraina nelle Americhe, in Australia e in Europa, continuando a svolgere il ruolo di pastore del suo popolo. Nel 1976 lanciò un appello alle Nazioni Unite in favore delle vittime del comunismo e nel 1977, in un drammatico intervento presso il tribunale Shacharov, denunciò ancora una volta la persecuzione religiosa in Ucraina. Il mondo guardava a lui e al cardinale Iosef Miszenti come a due grandi testimoni della fede cattolica nel Novecento. Per assicurare il futuro della Chiesa ucraina, il cardinale Slipi non arretrò di fronte a gesti estremi. Peter Kwasniewski ha recentemente ricordato come il 2 aprile 1977 egli ordinò clandestinamente tre vescovi senza l'autorizzazione di Paolo VI, incorrendo automaticamente nelle censure canoniche previste dal canone 953 del codice allora vigente. Però, a differenza di quanto accadrà per Monsignor Marcel Lefebvre, scomunicato nel 1986 per la stessa infrazione della legge canonica, nessuna misura scattò ipso facto nei confronti del cardinale Slipi. Uno dei vescovi da lui ordinati era Monsignor Lyubomir Husar, che Giovanni Paolo II nominò, dopo Slipi, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica e cardinale. A lui successe come primate Sviatoslav Sevkuk, che si trova in questo momento sotto le bombe nella città assediata di Kiev. Nel 2004 la sede dell'arcivescovato maggiore è stata trasferita a Kiev e ha mutato il proprio nome in quello attuale di Kiev Halic. Il cardinale Iosef Slipi morì in esilio a Roma a 92 anni, il 7 settembre 1984, ed è ora sepolto a Leopoli, nella cripta della cattedrale di San Giorgio, accanto al metropolita Andrei Septichi. Giovanni Paolo II lo definì uomo di fede in vita, pastore di fermo coraggio, testimone di fedeltà eroica, eminente personalità della Chiesa. Mentre l'identità religiosa e politica della sua terra è ancora una volta brutalmente calpestata, la memoria dell'eroica resistenza del cardinale Iosef Slipi ci aiuta a confidare nel futuro dell'Ucraina. Kiev fu il luogo della conversione del popolo russo alla Chiesa Cattolica e da Kiev, non da Mosca, è destinata a partire la seconda grande conversione della Russia, annunciata dalla Madonna a Fatima. Nel messaggio di Fatima il cardinale Slipi fu un grande zelatore. Nel 1980 egli presentò a Giovanni Paolo II due milioni di firme raccolte dall'armata azzurra, insistendo in un lungo colloquio con il Papa sulla necessità di consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria. Questa consacrazione non è ancora avvenuta secondo le modalità richieste dalla Beatissima Vergine, alla quale il cardinale Slipi così si rivolse nel suo testamento. Seduto sulla slitta e facendomi strada verso l'eternità, recito una preghiera alla nostra protettrice e regina del cielo, la semprevergine madre di Dio. Prendi la nostra Chiesa ucraina e il nostro popolo ucraino sotto la tua efficace protezione. Facendo nostre le sue parole in questo momento tragico della storia del mondo, non possiamo che proclamare a voce alta onore al cardinale Slipi e al suo popolo martire.